Oggi cassaforte è diversa dalle altre. Ci sono quelle con le sbarra crociera, quelle triangolari e quelle circolari. La chiusura è tutta tenuta, senza fessure. E che fai, mangi? Un po' di tensione, no? Mangerai dopo, durante l'intervallo. Dunque, un modo per aprirla è quello della dinamite, il sistema che usava il famoso Fu Cimin. Fu Cimin? Chi è, un cinese? Ma che cinese? Veneziano era. Fu sarebbe che morì. Cimi è il cognome, no? Poveracci, sortò in aria con tutta la cassaforte. Quindi è un sistema che io escludo al priore. Intesi? E adesso passiamo appresso. Dunque... Le madame. Oh, povero me, le madame. E' come brigadier! Scalcioni! Barabutti! Se ne schiappa qualcuno lo faccio nero. Ragazzacci! Arrischia ti fanno vedere un accidente. Mi sembrava strano, è passato ieri. Allora, attenzione. Molte cassaforti hanno tre o quattro serrature. Una, però, è quella che conta. E come si fa a capirlo? E come si fa? E' trapano, buchetto e cannello. Si riempie la cassaforte d'acqua. Acqua? Dalla serratura che... Acqua, acqua. Dalla serratura che esce il liquido acquatico. Diciamo così. Quella è la buona. Ma è un sistema pratico? No. Oh, ragazzi, mettiamoci bene in testa che con le cassaforti non c'è mai niente di sicuro. Uno solo. Uno solo è il mezzo sicurissimo. La sega circolare. Ed ora, passiamo ad un esempio pratico con una cassaforte da esercitazioni. Eccoci qui. Vedete questi buchi? Questi sono tutti i tempi che ho preso io, che ho preso mi. Attenzione. Sistema Fu-Ci-Mi. Dinamite. Osservate la perfezione e il diametro di questo orifizio qui. Un'ora e quindici. Un'ora e quindici. Al tempo. Sega, corrente industriale, cinquanta chili di ingombro. Eh, addio. No, non ne parliamo nemmeno. E allora, guardate quest'altro pertuso. sega tetesca Volkhmut a mano. Con un po' di buona volontà ci si può stare dentro nelle tre ore. Ce l'avete voi tre ore disponibili? Beh, stanotte stabiliamo i turni di vigilanza per studiare i movimenti del palazzo, i negozi, gli orari, tutto scientifico. Però tre ore pulite ci dovrebbero essere. E adesso procediamo all'applicazione incorpore Vili. Tu, piglia il buzzichetto dell'olio e lubrifica. Che la lubrificazione deve essere continua e ininterrotta! Io in questi affari tecnici non ci vorrei andare. Dante Cruciani! Controllo! Sti ragazzacci, ma se ne acchiappa qualcuno lo confio. Sei pronto? Dai! Siamo pronti? Cinque e tre. Vabbè, ce lo dici. E allora, allora di lato, eh? Papà, papà, c'è sempre il galiere! Oddio, oddio, c'è rovinato! Nascondi la cassaforte! Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani! Dove sei? Ehi, ragazzi! E che si fa? Cadum, cadum! Buongiorno, brigadiere! Allora, damo, brigadiere! Buongiorno, brigadiere! Come vede, si lavicchia!